è permesso siamo noi la luce dell'amore porta via il buio dal tuo cuore ciao fratello come va? guarda fino a qualche secondo fa benissimo fratello quest'oggi siamo venuti per parlare con tutti quanti voi perché ci siamo stancati di parlare solo con una persona guarda che per me sta benissimo io da solo già non vi sopporto più almeno con gli altri mi faccio coraggio ok allora dai ragazzi venite qua facciamo contenta Johnson & Johnson tutti qui dai fratelli tutti qui sorella perfetto eccoci qua oh perfetto dimmi fratello questa è una giornata molto importante per tutti quanti voi questa è una di quelle giornate che voi non vi dimenticherete più guardi questo è poco ma sicuro noi questa giornata non ce la dimentichiamo perfetto allora innanzitutto cioè prima di tutto bisogna imparare la canzoncina allora voi adesso seguite il fratello Johnson dicevo allora ragazzi attenti eh seguite il fratello Johnson fratello Johnson qui ok allora mi raccomando al suo accenno tutti insieme all together all together via siamo noi la luce dell'amore no 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 fai sentire fratello Johnson sentiamo tutto una volta più gutturale oh perfetto attenzione alle labbra fratelli Johnson port port via port via port via oh perfetto di nuovo tutti insieme port via la luce nel tuo corpo brava perfetto perfetto dobbiamo fare pure il lato B dobbiamo fare fratello oh purtroppo fratello purtroppo ci abbiamo soltanto la versione strumentale che peccato vogliamo fare un'altra canzone no direi di no guardi direi proprio di no perfetto bene allora adesso inizieremo dall'origine del mondo secondo Momon ok per forza dobbiamo cominciare dall'origine certamente cominciamo dall'inizio e parliamo dall'inizio ok ebbene Momon si trovava nella sua classe che classe? era la terza elementare era la terza elementare e tutti si organizzavano per fare il lavoretto per la festa dei papà con le mollette magari no la maestra aveva detto di usare il DAS quella sorta di cera pongo sì 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 ebbene Momon sbagliò le doci e il DAS incominciò ad ingigantirsi sempre di più sempre di più sempre di più e diventò una palla enorme il mondo appunto e questa è stata la creazione del mondo di Mormon? no soltanto una parte anche perché poi l'altra parte Mormon gli ha dato il Vernidas a tutta la palla ah sì? sì e quanto durò tutta questa bella creazione? ma un pomeriggio per farlo un altro per asciugarlo e scommette che la maestra fu pure contenta di questo mondo? guarda è contentissima penso un po' che la maestra mise ottimo in applicazioni tecniche a Mormon tanto la soddisfazione bene ok grazie a questo punto no dovete andare via guardate tutti insieme la nuova canzioncina dai tutti insieme vediamo se avete un po' riparato all together seguite Fratelli Jones siamo noi la luce del tuo cuore dell'amore allora se non so sta zitto sta zitto porta via il buio dal tuo cuore ma stiamo scherzando grazie a tutti grazie a tutti